Amici di Club Napoli, siamo con lo zio di Ciro, Vincenzo Espostito, siamo proprio nel garage, nel lato lavaggio della famiglia. Secondo le prime ricostruzioni delle forze istituzionali, siamo nel covo del camorrista. Invece è davvero un posto di lavoro normalissimo, si stanno rimbalzando notizie di tutti i tipi. Noi siamo qui proprio per fare chiarezza, perché sembra che la questione, l'agguato, perché di agguato dobbiamo parlare, ha avuto da sette ragazzi napoletani che non fanno parte di nessun gruppo Ultras, anche se facessero parte dei gruppi Ultras, non ci vedo nulla di strano, sono stati letteralmente aggrediti a colpi di arma da fuoco, arma da fuoco semi-automatica, semi-militare, perché con colpi esplosivi, una 7,65 per chiunque vuole vedere su internet di che arma si tratta, a colpi di pistola, una cosa mai vista, che non dovrebbe succedere nella vita reale, che non dovrebbe succedere soprattutto quando si va a vedere una partita e che non dovrebbe succedere con una tifoseria, che non dovrebbe centrare niente con la partita. Tutto questo però sembra passato in secondo piano. Sì, tra l'altro è passato in secondo piano che questo signore, candidato alle elezioni comunali con la lista Alemanno, gestisce una discoteca abusiva, vorrei esprimere in questo momento la mia solidarietà, non solo a mio nipote, che ha lotto ancora tra la vita e la morte, ma a questo ragazzo ferito alla spalla, perché dopo che è stato operato si è scoperto che avendo avuto colpi esplosivi, ci sono delle schegge nel braccio e rischia di perdere un braccio. Vorrei inoltre in questo momento ringraziare il primario del Policlinico Gemelli, che ha detto che lo Stato vero è quello che consente a una mamma di vedere un figlio. Vorrei esprimere anche qui, prima di esprimere una critica, un ringraziamento ai poliziotti, ai responsabili della DICOS che sono stati vicini a noi con grande serietà e disponibilità e umanità. Ringrazio la DICOS perché purtroppo devo prendere atto che vicino a noi è l'unica faccia dello Stato che abbiamo visto. Poi abbiamo visto uno Stato che invece di ammettere i propri errori nella gestione dell'ordine pubblico, ha deciso di trasformare un qualsiasi Cile Esposito, che poiché è un qualsiasi abitante di Scampia, poiché ad essere di modo comorra, a Scampia sono tutti comorra. Allora io ho pensato, e ringrazio i giornalisti che mi stanno intervistando, di portarli nel covo di un gammorrista. C'è stato solo un errore. Mio nipoto normalmente non usa la pistola. Adesso vi faccio vedere la mitraglietta che usa tutti i giorni. Intanto, mentre andiamo a vedere questa mitraglietta, per modo di dire che lo Stato, a parte le forze dell'ordine, è stato assente, ma sono stati presenti tanti cittadini, da genni ai tifosi della Lazio. Sì, io non seguo lo sport, purtroppo farei parte di quella che si chiama società civile, cioè sono uno che tutti i giorni lotta per la legalità. Io mi sono trovato vicino dal punto di vista umano solo ai tifosi della Lazio. Ci hanno portato da mangiare e da bere. Stanno ospitando mio fratello e poi dicono che c'è lo Stato e l'antistato. È vero, io sono sempre stato alla parte dello Stato e della legalità. Ci siamo trovati vicino solo gli ultras, compreso questo signore definito Jenny Agarogna, che ci ha espresso solidarietà, ringrazio i tifosi della Lazio, continuo a sostenere, ma se Ciro è esposito, era un qualsiasi Ciro è esposito, gli avevano buttato già addosso una macchina del fango. Appena ci siamo difesi e abbiamo cercato di dimostrare che Ciro è esposito di un lavoratore, hanno alzato il tiro, hanno perfino cmentito la prima ricostruzione della Dicos. Io ribadisco. Vediamo anche la ricostruzione ufficiale Enzo. Dieci persone in due auto, fermano l'auto dove è indicato, vengono assaliti, nel momento in cui vengono cercati da un gruppo di facinorosi, perché la prima cosa che dovrebbe dimostrare il questore, che era una sola persona, erano un gruppo di facinorosi, che ripeto, stavano in un locale politicamente schierati, nazischi, candidati con Alemanno, gestiscono una discoteca abusiva, vorrei capire dove è lo Stato. Dove è lo Stato? Una discoteca abusiva gestita da un pluri decorato per attacchi allo Stato democratico. Candidato con Alemanno, fortunatamente anche a Roma ci sono persone civili, perché ha preso solo 50 voti. Però si parla di Geni, questo è quello che fa arrabbiare tanto. Chi fa notizia a Geni, che essendo, povero Cristo, l'unico che sapeva che c'era un tifoso in fin di vita, ha detto ad Amsic, e potete intervistarlo, che c'era un tifoso in fin di vita. Dopodiché la vera notizia, siamo famosi in tutto il mondo, perché Geni bloccava la partita, e nessuno dice che noi ad oggi non abbiamo mai avuto la comunicazione ufficiale che mio nipote era stato ferito, è stato affermato per televisione che è stata contattata la famiglia, non è vero. Gli unici che sono stati vicino a noi, ripeto, i funzionari della TICOS, che hanno dimostrato che c'è uno stato buono e uno stato cattivo. Purtroppo a noi capita sempre il cattivo, però c'è anche uno buono. Quello buono sono i funzionari della TICOS, una signora di cui non conosco il nome, è un signore di cui non conosco il nome, ma che accorgo l'occasione per ringraziare, e ringrazio ancora una volta i medici che hanno salvato mio nipote, e che di fronte a uno strato forte con i deboli, hanno consentito a mia cognata di vedere il figlio, perché è sottoposta ad arresti domiciliari, perché poi se uno mi assale e mi spara, io sono un partecipante a una rissa. Però vorrei approfittare dell'occasione e far vedere che questo pericoloso delinquente, contrariamente a questo nazischkin che usa le... Armi semi-automatici. Armi semi-automatici con proiettili esplosivi, mio nipote l'ha scavaccato, perché usa una bellissima mitragliatrice che spara getti d'acqua, e questi getti d'acqua qui servono a lavare le macchine, dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Sabato e domenica inclusi. Diciamo anche questo. Enzo, diciamo una cosa. L'idea che più o meno ci sono fatti, poi in trasmissione spiegheremo, perché abbiamo sentito tante persone che hanno detto la stessa versione, tante persone che giustamente non vogliono intervenire per vergogna della telecamera, perché insomma il loro dolore lo vogliono tenere dentro e non lo vogliono far vedere. In trasmissione diremo tante altre cose, però diciamo che forse si sta mistificando per nascondere le colpe di qualcuno, perché insomma in Italia chiunque sbaglia paga, però mi sembra che in certi ruoli non si debba pagare, nessuno si vuole prendere responsabilità. Io sono un amante del cinema, rispondo con una battuta. C'è un bellissimo film, si chiama La seconda guerra civile americana. Un giornalista va a intervistare il governatore della California, questo che mentre viene intervistato svolge attività sessuali, spara un'enorme cazzata, dopodiché si consulta con il suo addetto stampo e quello dice qual è la strategia migliore, non rinnegare la cazzata e dire una superiore. E lo Stato della California dichiara guerra agli Stati Uniti d'America. Noi ci troviamo, purtroppo è la realtà, nella stessa scena. All'inizio è stato detto, non c'entra niente con la tifoseria, non c'entra niente con il caccio e un regolamento di contro da gangster. Dopo invece di dire la verità si cerca di coprire mettendo menzogna su menzogna. Ma noi dimostreremo che c'è una Napoli civile, che mio nipote è un galantuomo, che noi siamo gente per bene e che alla fine un giudice a Berlino si troverà sempre. Diciamo la cosa più importante, perché poi parliamo di un vero e proprio bollettino di guerra, a meno tre feriti gravi, altri feriti lievemente. Ciro è stato operato nuovamente, un'operazione difficile che però fortunatamente è riuscita. Si saprà solo fra qualche giorno le sue vere condizioni. L'altro ferito grave è in un altro ospedale e rischia l'amputazione del braccio. Il terzo è in galera. Aggrediti, tre persone aggredite, uno in galera, altri due in gravi condizioni arrestati. Ma sono napoletani, fa notizia un napoletano che sta in galera. Mica un candidato di Alemanno che usa una pistola automatica contro proiettili esplosivi. Io vorrei giudici solo una cosa. Io ho un solo rammatico, un ragazzo in fin di vita, perché voglio ricordare che in questo momento mio nipote è paralizzato alle gambe. Se è transitorio permanente, attualmente i medici non sono in grado di sciogliere la riserva. È in coma farmacologico. È in condizioni disastrose. Mi sarei aspettato che, appurata la verità, la società Calcio Napoli avesse fatto un atto di solidarietà privato, non pubblico. Qualcosa è arrivato, ma è arrivato di personale. Diciamo questo, di personale. Abbiamo avuto una solidarietà personale. La persona che ha espresso solidarietà ha chiesto di rimanere anonima, ma io voglio ringraziarlo pubblicamente. Il dottore, l'ortopedico che segue i giocatori del Napoli, il dottor De Nicola, si è messo a disposizione, ha chiesto di non essere citato. Io lo cito perché voglio ringraziarlo. Dottore, grazie. La ringrazio per la sua umanità.